Con Mr. 7, il mister del medwork, intanto benvenuto a Montebello, sei una vecchia conoscenza comunque della Leonicena per il tuo passato al Montegrotto, salutiamo anche i ragazzi del Montegrotto, a Montebello con i favori del pronostico perché l'antenore e la tua squadra sono considerate tra le maggiori favorite per la vittoria del campionato. Allora, arriva una sconfitta a Leonigo, una squadra che non conoscevi, cosa ne pensi? Ho incontrato subito una squadra molto forte, l'aspettavo anche perché avevo già sentito voci che eravate molto forti, è quello che ho proprio visto, giocatori molto tecnici, bravi, veloci, pressavano molto bene, ci avete messo tantissimo in crisi, non siamo riusciti a esprimere al meglio quello che avevamo provato in settimana, purtroppo, complimenti a voi per questo, per aver fatto questa partita e per averci messo così in difficoltà. L'allenamento di lunedì sicuramente si riparte per migliorare nella gestione palla, abbiamo avuto tantissima difficoltà nel possesso palla, nel far girare il pallone, nel riuscire ad imbucare sul pivò, di riuscire a portare alto alla palla. Dove può arrivare questo med-work anche se siamo alla prima giornata? Trovo presto per l'Ugo, speriamo il più alto possibile. Dici una favorita per il campionato? Io antane nore. Di vedersi. Grazie.